si è perduto una parte del bel video, fare vedere cose questo qui, un laboratorio che non va discesa rapida armature portale del nether portale del land panacea spassolino il vaso la pizza la statua eric toy lupo mannaro orsetti golden freddy vomitrix il doorman e la telekill interessanti sali, 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 sal Dovrebbe estendersi da questa parte il coso Quindi volevo costruire qualcosa di qua Cosa sta roba? Ma perchè non cambiano colore? Aspetta che devo fare una cosa Iscriviti Solo l'8% di voi è iscritto veramente Guarda i video, iscrivetevi Adesso io andrei Salve dai tu che vuole No ma... Aleksander Lei è Aleksander giusto? Si Quello è un certo Canto taglio Che numero è il 472? Giusto? Bloodstone C'è un problema Io ho raccolto la Bloodstone E il mondo sta laggando tanto E sono riuscito a prendere questi materiali Che sono I minerali nostri Quelli della... Che stanno anche nel mondo Delle live di Ryan E adesso io proverò a uscire Anzi troppo difficile Quindi Taglio il video Oh sto soffocando Taglio il video nel momento in cui arrivo lì A questo punto del video Il video è andato puttane Ma l'audio si sente E quindi potrete Vedere solo una schermata E sentire quello che è successo Quindi Buona visione Il mondo sta per chiudere Quindi io scaverò Andiamo se mi scava Ok scava Questa è la spada Che l'ho messa qui Come vedete E qui metterò i minerali Come l'elbiscita La cleverite La di reclorite Questo La popolarite E la Il bloodstone In pratica è arrivato Al muro Quello chiuso E invece Dietro c'era la cella Della spada di telekill E Ho costruito la cella Per la bloodstone Molto profonda E la cella Per i minerali Fine Ciao E 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 Grazie a tutti.